È vero che tutta l'Europa ci guarda, però è anche vero che da quasi tutti l'Europa League non è considerata come la Champions, per dire. Già a cominciare dal pubblico, dallo stadio, da voi stessi, che mi chiedevate il giorno prima quanti gol dovevamo fare per levarsi il pensiero. Infatti ai ragazzi ieri gli ho detto, voi non dovete cascare in questa trappola, noi sappiamo cosa bisogna fare in campo. Le squadre a livello europeo sono tutte pericolose e lo sappiamo, noi lo dobbiamo sapere, anche se non viene nessuno a vedere la partita, altrimenti facciamo le figure lì. Noi siamo professionisti, purtroppo i ragazzi, ecco perché io parlo di processo di crescita, di maturità, che non ce la fanno a volte a sentire questa concentrazione, a viverla con se stessi e basta, isolarsi da tutto. Probabilmente ci ho messo anch'io del mio, può darsi anch'io stesso, non sono stato cattivo come al solito, però ogni tre giorni i ragazzi, un allenatore tutti i giorni va solo lui e deve bammartellare tutti, eccetera. Siamo umani anche noi allenatori, allora dovrebbero i ragazzi capirlo un po' più da sé, di stare concentrati perché altrimenti si va in campo e si fa quelle figure. Purtroppo, ecco, l'Europa League, anche in base a quante persone sono venute allo stadio e per come si erano comportati il primo tempo, sembrava di essere a un amichevole, a un teatro, non sembrava nemmeno di essere allo stadio. Può essere anche quello un pochino che ci ha fatto fare questa brutta prestazione. Ripeto, l'ho detto prima, non è che io lavallo questo discorso, però è possibile, purtroppo c'è questo rischio facendo questa competizione in questo momento.